Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza parte, terza puntata del corso di azzeramento di informatica. In questa terza parte ci occuperemo sostanzialmente dell'installazione dei sistemi, quindi lasceremo un po' da parte la parte vera e propria di programmazione, che abbiamo visto finora in Snap, e quindi ci occuperemo principalmente di installazione. Quindi vedremo Windows, Linux e le reti. Vedete, qui c'è un riepilloro della prima parte che abbiamo svolto, seconda parte in cui abbiamo visto sostanzialmente l'if-den-else e poi abbiamo visto una parte più di aritmetica, in cui abbiamo visto i bit-byte, i loro multipli e qualcosa sulle basi e la rappresentazione. Abbiamo visto un esempio proposto, un esempio proposto, il fattoriale che risolveremo adesso come prima cosa. Dopodiché passeremo appunto, come dicevo, alla parte di installazione. Quindi vedremo che cos'è VirtualBox, vedremo come installare VirtualBox e come utilizzarlo, e anche perché, naturalmente, e poi installeremo Windows 10 e Ubuntu. E poi ci occuperemo della linea di comando del terminale, che sono purtroppo un argomento che ho notato essere, purtroppo su cui ho notato notevoli carenze in passato, perché è evidente che non viene affrontato. E poi vedremo qualcosa sugli indirizzi IP, sulle reti, e anche qualcosa di un po' più, se vogliamo, accattivante, come l'SSH, l'NMAP per verificare la correttezza delle configurazioni dei sistemi, e poi anche due parole sui web server. Questa parte, la terza parte, è molto lunga in termini di tempo, perché, naturalmente, l'installazione richiede tempo. Allora, per abbreviare la cosa, io ho già prescaricato alcune cose, come potete vedere, che poi vi dirò di volta in volta, ma, in generale, sono stato costretto, per ridurre la durata dei singoli filmati, a dividere in tre parti, parte A, B e C, questa parte. E, in particolare, quindi, nella prima di queste tre parti, parte A, sostanzialmente, della terza parte, vedremo l'installazione dei sistemi. E' chiaro che il filmato può avere anche una certa lunghezza, ma, naturalmente, se avete dei problemi, o se desiderate fermarvi perché c'è qualche problema da risolvere, purtroppo le installazioni non vanno mai lisce, subito, c'è sempre qualcosa che non quadra, e, naturalmente, potete fermare il filmato in ogni momento, e poi ripartire quando avete risolto il vostro problema. Quindi, cominciamo, quindi, dalla parte 3A. E, ah, giusto per curiosità, come vedete, io qua utilizzo questo meccanismo di desktop multipli, che, magari, probabilmente voi avrete utilizzato, già sotto Windows, qui parliamo di Windows 10. Se qualcuno di voi non li ha ancora utilizzati, io, per fare questo tipo di gestione, li utilizzo perché sono molto comodi, basta cliccare qua, in Windows 10, e vedete che mi fa vedere tutti i vari desktop, dopodiché, se io ne voglio aggiungere uno, ne aggiungo uno, in modo tale da averne quanti me ne servono, dopodiché, qua, per esempio, vedete che c'è, qui c'è il PowerPoint, dopodiché io, usando quattro dita, quindi facendo, usando quattro dita in contemporanea da sinistra verso destra, vedete, mi sposto qua, poi mi sposto ancora qua, vedete che qui ho la telecamera per poter scrivere, e poi qua, tanto per fare un esempio, qui c'è il programma, questo è OBS, che è il programma che uso per effettuare la registrazione. Se io le quattro dita le faccio andare dal basso verso l'alto, mi ricompare questa scelta, e a questo punto io, per esempio, torno qua, perché è quello che mi serve. Ok? Quindi è una caratteristica che Windows 10 ha importato dal sistema operativo del Macintosh, che l'aveva già da parecchio tempo. Ora, cominciamo dunque con cercare di risolvere l'esercizio sui fattoriali, e in particolare vediamo molto brevemente, diciamo così, vediamo molto brevemente la definizione di fattoriale, che saprete sicuramente, ma per maggiore... ecco, allora, vediamo che il dato n è un numero, il fattoriale di n è uguale a 1 per 2 per 3 per n meno 1 per n, ok? Con il fattoriale di 0 che vale 1. Quindi, ad esempio, 5 fattoriale sarà uguale a 5 per 4 per 3 per 2 per 1. Quindi noi dobbiamo realizzare un programma, i snap, che faccia esattamente questo. Bene, allora, qui abbiamo il nostro snap, per cui, tanto per cominciare, cominciamo, iniziamo a realizzare la struttura esterna, quindi la nostra partenza, il nostro stop, e fin qua ci siamo. Dopodiché abbiamo sicuramente bisogno di inserire da tastiera il numero, ok? Quindi possiamo scrivere qua, inserire il numero, inserire il numero. Ok, adesso sappiamo che questa è sostanzialmente una primitiva, un'istruzione di input, che inserisce, che genera, diciamo, quello che voi inserite da tastiera, lo mette dentro a una variabile che si chiama asware. Ora, a questo punto noi creiamo una variabile, la chiamiamo numero, in cui andremo a mettere il numero che ci serve. Numero. Ok? Quindi a questo punto noi andiamo, vedete che qui abbiamo la nostra istruzione di assegnazione, quindi facciamo set numero uguale ad anser. In questo modo noi adesso dentro numero abbiamo il nostro valore, ok? Adesso dobbiamo realizzare quella moltiplicazione che dicevamo prima, però per realizzare la moltiplicazione noi abbiamo bisogno di avere un numero che contenga poi il risultato finale, ok? Per esempio noi qui poi lo potremo anche voler visualizzare e noi potremmo fare una cosa del genere immediatamente prima della fine del programma, potremmo scrivere, ok? Una cosa di questo tipo. Quindi diciamo che il risultato del nostro programma deve andare a finire nella variabile numero, ok? Però la variabile numero è quella che cresce via via con il fattoriale, mentre invece abbiamo bisogno anche di un contatore che ci permetta di contare quante volte effettuiamo la moltiplicazione. Per cui costruiamo un'altra variabile, la chiamiamo contatore, in questo modo abbiamo il nostro contatore, azzeriamo, o per meglio dire, settiamo anche il nostro contatore e anche il nostro contatore lo mettiamo uguale a quella che era Answer, ok? Quindi per esempio supponendo che il nostro numero di cui calcolare il fattoriale sia il 5 di cui prima, in questo modo noi numero, questa istruzione è come se in altri linguaggi fosse scritto numero uguale a 5 e questo è come se fosse contatore uguale a 5, ok? In realtà con numero uguale ad Answer e contatore uguale ad Answer. Bene, a questo punto noi dobbiamo effettuare quel ciclo. Allora, come facciamo a realizzare quel ciclo? Abbiamo visto qui, già in passato, che noi abbiamo sostanzialmente alcune possibilità. Allora, la parte, vedete che qua di cicli ce ne sono 3, forever voi capite che esegue quello che c'è qui dentro per un numero infinito di volte, repeat 10 lo esegue per un numero preciso di volte, ma a noi servirebbe, serve di più questa condizione, ok? E in particolar modo ci serve che il ciclo venga ripetuto, vedete qui vi ricordo che questo repeat until significa che quello che c'è qui all'interno viene rifatto, ripetuto, quindi le istruzioni che ci sono qui dentro vengono ripetute, fino a che non avviene che questa istruzione diventa vera, vera nel senso booleano che avevamo visto la volta scorsa, cioè vera a tutti gli effetti. E allora che cosa potremmo mettere lì dentro? Potremmo mettere contatore uguale a 1, ok? Quindi qui ci mettiamo il contatore e qua ci mettiamo 1, ok? Quindi questo significa che il blocchetto qui all'interno, qualunque cosa noi metteremo qui all'interno, verrà ripetuta fino a quando non avverrà che contatore diventa uguale a 1, ok? Contatore parte dal valore di Hanswer, piano piano dovremo decrementarlo. Bene, allora la prima cosa che facciamo quindi è decrementiamo il contatore. Come facciamo a decrementare il contatore? Dobbiamo fare contatore meno 1, ok? Quindi poi andiamo qua, scusate qua, ok, qui abbiamo il nostro ciclo, quindi stavamo dicendo qui, prendiamo delle variabili, quindi facciamo contatore meno 1, ok? Però noi dobbiamo scrivere contatore uguale a contatore meno 1, quindi abbiamo bisogno di un'assegnazione, quindi facciamo set contatore uguale a contatore meno 1, quindi qui abbiamo ridotto il valore di contatore, ok? Questo perché se noi inseriamo questa istruzione qui dentro e poi facciamo girare questo ciclo, lui parte con contatore uguale per esempio a 5, qui tutte le volte noi lo decrementiamo, prima o poi diventerà uguale a 1 e uscirà dal ciclo. Però in realtà noi vogliamo anche ovviamente calcolare questo fattoriale e per calcolare il fattoriale noi abbiamo a disposizione la variabile numero, quindi dobbiamo fare numero uguale numero per contatore. Quindi allora prendiamo di nuovo questo, lo infiliamo qui dentro, quindi set numero uguale numero per contatore, quindi ancora una volta andiamo a prendere questi operatori, poi qui numero e qui contatore, ok? Bene, quindi questo significa che noi partiamo per esempio con sia numero che contatore uguale a 5, poi riduciamo contatore che diventa 4, poi facciamo il numero è uguale al vecchio valore di numero, cioè 5 per 4, dopodiché riparte il ciclo, continua perché contatore non è uguale a 1, dopodiché contatore viene ridotto e diventa 3 e quindi numero che era 5 per 4 lo moltiplichiamo per 3 e così via. Poi la volta dopo lo moltiplichiamo per 2 e dopodiché quando a questo punto è l'ultimo giro perché poi dopo non lo moltiplicheremo più. Bene, allora quindi qui in teoria noi abbiamo terminato, proviamo a farlo girare, ad esempio noi mettiamo 5 e vedete che mi dà il risultato 120. Bene, però c'è un problema, nella definizione 0 fattoriale fa 1, quindi se noi qua dentro ci mettiamo 0, vedete che non funziona perché il contatore sta diventando un numero negativo, progressivamente sempre più grande e non va, e quindi da questo ciclo non si esce mai. Allora, fermiamo qua e dobbiamo quindi mettere un caso speciale, il caso speciale è quando il contatore è, scusate, quando il numero è uguale a 0, ok? Allora, come facciamo a selezionare un caso speciale? È un caso in cui il flusso dei dati cambia rispetto a quello normale, per cui richiede un if. Quindi noi andiamo qua, andiamo a prenderci la nostra struttura dati, vedete che if abbiamo l'if, quindi se è vera questa condizione, allora faccio questo che c'è qui dentro, e questa è la prima forma. Oppure, se è vera la condizione, eseguo questo, altrimenti, cioè se non è vera la condizione, eseguo quest'altro. Bene, allora qui è proprio quello che ci serve. Allora, qui mettiamo se il numero è uguale a 0, Allora, abbiamo bisogno di un operatore, quindi, eccolo qua, se il numero, aspettate, lo metto un po' meglio, perché sennò qui non si capisce, allora, se il numero è uguale a 0, significa che il valore del nostro fattoriale è 1, quindi andiamo a prendere l'assegnazione, che è qui, non riesco ad agganciarla, aspettate un attimo, allora, questo lo metto qui dentro, perché è l'altro gramo, allora, un attimo solo, perché qua, ecco, ci abbiamo fatto. Allora, set numero uguale a 1, ok? Quindi, in sostanza, se il numero è uguale a 0, allora il fattoriale diventa 1, quindi il numero è uguale a 1, finito lì, e si va subito qua. Altrimenti, effetto il mio ciclo, in cui faccio quello che dovevo fare, che facevo prima. Quindi, se adesso noi ripartiamo e mettiamo 5, fa 120, ok? Se noi mettiamo 0, fa 1, perché entra all'interno di questa parte dell'if then else. Se io metto un numero molto grande, per esempio, molto grande, si va per dire, metto 20, vedete che il risultato esplode immediatamente, perché il fattoriale produce dei numeri decisamente giganteschi, ok? Bene, allora direi che con questo abbiamo risolto l'esercizio sul fattoriale, per cui, a questo punto, possiamo partire, invece, con la seconda parte, che riguarda, diciamo, l'installazione dei vari sottosistemi, che è, diciamo, quella caratterizzante di questa terza puntata. Allora, cominciamo con il vedere, che cosa, a cosa serve tutto ciò. Allora, diciamo che, supponiamo di voler, allora, vedete che questo portatile, ha sopra installato Windows 10, ok? Io, volendo, potrei cancellare il contenuto dell'hard disk, e installare un altro sistema operativo, come potrebbe, per esempio, essere Linux, non su questo, per varie motivi che esulano dal contenuto di, di quello che stiamo dicendo, però, su computer analogo, potrei installare il Mac OS X, o altri sistemi operativi, ce ne sono un certo numero, meno diffusi. Bene, se noi, però, vogliamo installare un altro sistema operativo, dobbiamo, per così dire, cancellare l'hard disk. Ora, una quarantina di anni fa, l'IBM ha avuto un'idea, e che è quella, diciamo, un concetto, ha realizzato un concetto nuovo, che è quello di macchina virtuale, e cioè, all'interno di un sistema, voi potete avere un altro sistema, che è, a tutti gli effetti, messo all'interno di una specie di, di nucleo separato, quindi è completamente indipendente, dal, dall'ospitante, ok? Ora, in questo caso, poi, diciamo che, alla fine degli anni 90, un'altra ditta, VMware, riprese il concetto, e lo rese, diciamo, famoso. Oggi, come oggi, il concetto di macchina virtuale è diffusissimo all'interno delle aziende, tant'è che, se voi andate a lavorare in un'azienda, un po' grande, è molto probabile che non vi diano, vi daranno magari il computer portatile, però, siccome ovviamente c'è sempre il timore di perdere il computer, quindi perdere i dati e tutto quanto, voi utilizzerete il computer, ma in realtà utilizzerete una macchina virtuale che viene fatta girare sul computer, così se anche vi rubano il computer, o lo perdete, o lo danneggiate, o si rompe, non importa, perché la macchina virtuale è quella che contiene i dati, e la macchina virtuale è montata in rete, ok? Tenete presente che un concetto molto simile è in procinto di essere realizzato anche qui al Politecnico, o per gli studenti, o per vari casi, perché è molto utile. Ora, a parte VMware che credo che sia il leader di mercato, esiste quest'altra soluzione che si chiama VirtualBox, che è gratuita, e va molto bene per quello che dobbiamo fare noi. Quindi, vedete che questo è un programma, vedete che io l'ho lanciato, qui è già installato, adesso vi farò vedere, anzi vi faccio vedere subito come installarlo, poi andiamo a vedere meglio come funziona. Vedete, voi andate, per esempio, ecco andate qua, scusate qui, vedete, andate su questo indirizzo, e questo prodotto, che ripeto, è gratuitamente utilizzabile, voi dovete scaricare il binario, ok? E, per esempio andate qua, e vedete che lui scarica il file binario, naturalmente per brevità, io qui l'ho già scaricato, quindi qui faccio annulla, il file scaricato in questione è questo, ok? vedete, sono circa 170 MB, dopodiché dovete anche scaricare un altro file, che è questo qui sotto, l'extension pack, qui, all supported platforms, notate che io qui ho scelto Windows Host, perché il portatile che sto usando ha Windows 10 sopra, ma se io avessi per esempio una macchina con il Mac, con lo SX, quindi un Macintosh, dovrei scegliere la versione di VirtualBox, che gira sul sistema operativo SX, oppure se avessi un computer installato sopra Linux, dovrei installare la versione di VirtualBox, che gira su Linux, attenzione, vedete qui lo chiama Host, perché? Perché il computer questo che vedete in questo momento, questo è il computer cosiddetto Host, il portatile, tutti i computer virtuali che noi installeremo al di sopra, perché ne installeremo due, un Windows e un Linux, sono chiamati guest, cioè ospiti, ok? Quindi allora, oltre a questo, bisogna anche scaricare questo, che è un extension pack, che serve sostanzialmente a gestire l'USB, soprattutto l'USB 3 ed altre cose, quindi io faccio click qua, col tasto destro, e vedete che volendo mi scarico anche questo, questo è più breve, il file sono una ventina di mega, anche questo l'ho già scaricato, ed è questo file qua, vedete proprietà, vedete che sono circa una ventina di mega, bene, quindi, allora, quindi adesso supponiamo di averli scaricati, ok? Ovviamente questo software ha un manuale molto cospicuo, io adesso l'ho messo qui già pronto, perché poi dopo ci servirà, però comunque ha un suo manuale, abbastanza ampio, anzi decisamente ampio, bene, allora quindi, cominciamo quindi con il vedere questo VirtualBox, allora come vedete, io qui non lo installo, basta fare doppio clic qua sopra, vedete se io faccio avanti, vedete qui mi dice ripara, rimuovi perché c'è già un'installazione, se voi ovviamente lo installate su un computer in cui non c'è, lui provvederà a fare l'installazione, è molto semplice, quindi non lo vedremo, dopo aver installato VirtualBox, dovete installare, ovviamente sì, sono sicuro di voler annullare, faccio fine, e dopo dovete anche installare le extensions, ok? Le estensioni, vedete? Extensions pack is already installed, e va bene, reinstall no, perché non mi interessa, dopodiché come vi dicevo, ha lanciato anche VirtualBox, ora io, supponiamo di averlo già installato, bene, allora vedete che io qui ho già due macchine virtuali, perché io uso sistematicamente le macchine virtuali per tutta una serie di motivi, questo pensate a un vecchio Windows XP, e questo è un Ubuntu, ma non sono quelli che utilizzeremo adesso, perché noi ne utilizzeremo ex novo, ora, cosa serve questo software? serve dunque a creare e costruire macchine virtuali nuove, ok? Nuovi computer, è come se voi aveste a disposizione un computer nuovo ogni volta che fate new, ok? Quindi per esempio compriamoci un computer nuovo completamente gratis, e lo chiamiamo prova, ok? Ora, questo computer è un computer a tutti gli effetti, comprensivo di hardware, ma non di software, il software lo dobbiamo inserire noi, ora, qui lui ci chiede che sistema operativo volete installare qui sopra, ma per esempio vedete che noi qui abbiamo una bella lista, ok? di diversi sistemi operativi, diciamo che per esempio io potrei, giusto per prenderne uno che nessuno avrà usato di voi, prendiamo un Solaris, ok? E qui abbiamo una certa serie di possibilità, prendiamo questo, ok? E' solo un esempio, benissimo, attenzione, questo non significa che stiamo installando quel sistema operativo, stiamo di fatto comprando un computer fittizio, quindi a questo punto io faccio next, vedete, lui mi dice quanta memoria mettiamo, ma mettiamone 4 giga, quindi 4.096 mega, se vi ricordate la volta scorsa avevamo visto queste cose, attenzione, questa memoria è presa sottraendola alla memoria del vostro computer, quindi per esempio in questo portatile ci sono 16 giga di memoria, quindi se ad esempio io mi aspetto, normalmente molti dei ragazzi del primo anno chiedono, ma che tipo di computer ci possiamo comprare, perché magari lo dobbiamo comprare, allora io suggerisco in generale di comprare un portatile, perché ovviamente è comodo oggi come oggi, ma suggerisco anche di comprare almeno 4 giga di memoria, meglio 8, e se riuscite 16, perché è molto comodo per tutta una serie di motivi, ok? Poi per quanto riguarda l'hard disk, dipende quante cose volete metterci sopra, di sicuro consiglio un hard disk allo stato solido, almeno 512 giga, ok? E va bene. Per quanto riguarda il monitor, lì ovviamente c'è sempre la scelta, 13 pollici, 15 pollici, lì dipende, dipende dai gusti personali, dipende ovviamente anche dal portafogli, però se per esempio voi fate ingegneria meccanica, dovrete usare il CAD, Solidworks, e quindi io vi consiglio caldamente di prendervi un monitor che sia bello da vedere, perché lo dovrete usare parecchio, ok? Per vedere se il monitor è buono o no, io vi consiglio di andare nei centri commerciali, perché nei centri commerciali tutti i computer sono di solito messi accesi uno a fianco all'altro, e quindi li potete vedere in funzione, e quindi lo vedete subito se il monitor è di vostro gradimento oppure no, poi lo potete comprare dove volete. Per quanto riguarda le marche, e le marche sono sempre le stesse, per esempio Dell, HP, Asus, ce ne sono sbariate, Dell ha il vantaggio che ha una garanzia di solito buona, perché ve lo vengono a riparare direttamente on-site, però insomma vanno tutti bene, nel senso che la difettosità è abbastanza standard, a meno che voi vogliate comprare un Macintosh, e in questo caso la marca è fissa, perché è della Apple, ovviamente il sistema operativo, e può essere montato solo sui sistemi Apple. Comunque, qui io decido di metterci 4 giga, che andranno quindi a discapito dei 16 giga del computer. Attenzione, non significa che vengono tolti o smontati o danneggiati, semplicemente tutte le volte che io avrò in funzione questa macchina virtuale, del mio computer avrà, per quel periodo di tempo, 4 giga in meno. Quindi io faccio così. Poi vedete, quel computer non ha soltanto della memoria, ha anche un hard disk. Allora, l'hard disk, io volendo potrei anche usare degli hard disk già esistenti, ma è un po' più complicato. Qui io creo un disco virtuale, e questo disco virtuale viene fatto, viene realizzato in memoria, ok? Però questa volta non è più memoria RAM, ma è il disco, quindi viene realizzato a discapito del disco fisico del mio portatile, cioè del computer vero, cioè quindi dell'host. Vedete, qui mi dice 16 giga. 16 giga è davvero troppo poco. Adesso poi lo modificheremo. Poi mi dice che tipo di hard disk, perché questo hard disk, non è che l'hard disk esistente venga ovviamente danneggiato o partizionato in qualche maniera, viene semplicemente realizzato un file che contiene tutto il file system di quel computer virtuale. Quindi va bene, vdi. Dopodiché, ecco, vedete, lui vi dice, ma questo hard disk deve essere di dimensione fissa oppure allocato dinamicamente? Qual è la differenza? Se di dimensione fissa voi avete scelto 50 giga, i 50 giga verranno tolti d'emblè al vostro computer, no? E questo significa che verranno tolti per sempre, o fino a quando voi non cancellate la macchina virtuale, non è che venga naturalmente danneggiato l'hard disk che voi avete. Invece è meglio Dynamical Allocated, perché normalmente magari voi mettete 50 giga, ma in realtà quando il computer parte ne usate pochissimi, e quindi all'inizio ne usate pochi, poi se vi servono ne usate sempre di più. Quindi Dynamical Allocated va bene. Vedete, lui qua mi dice 16 giga, però 16 giga non vanno più bene, oggi come oggi, quindi facciamo 50 giga, ok? Create. Vedete che noi abbiamo creato una macchina virtuale, quindi è come se fossimo andati da un negoziante, avessimo comprato un computer, con 4 giga di RAM, 50 giga di hard disk, un po' difficile da comprare, oggi come oggi. Bene, allora questo computer non ha installato sopra nulla, ok? Proprio nulla, è nuovo di zecca, ok? Normalmente quando voi comprate un computer ha già il sistema operativo sopra, ma questo è vero oggi come oggi, ma in realtà supponete per un momento che il vostro hard disk si rompa, voi lo dovete sostituire, ne comprate uno nuovo, lo montate, su quell'hard disk non c'è nessun sistema operativo, ok? Quindi che cosa succede in questo caso? Supponiamo di farlo partire, faccio doppio clic qui sopra, lui parte, e vedrete che a tutti gli effetti, lui mi chiede, da dove deve partire? Perché quando il computer parte, bisogna di un hard disk da cui partire, un tempo c'erano i floppy, ma adesso non ci sono più, ora qui c'è scritto empty, perché non c'è nessun tipo di hard disk, non c'è nulla, ok? Quindi io faccio cancel, poi questo la cancello, lui parte, vedete qui è come se fosse un computer che è partito, però vedete, lui si ferma subito, perché vedete dice fatal, quindi un errore fatale, quindi non si può rimediare, no bootable medium found, system altered, perché non ha trovato nulla da cui partire, non ha trovato un hard disk, non ha trovato nulla, e si è bloccato. Questo è il comportamento standard di un computer privo di hard disk, ok? Benissimo, o per meglio dire, con l'hard disk, ma senza nulla di installato sull'hard disk, quindi noi a questo punto abbiamo bisogno dell'equivalente di un posto dove inserire un cd, e metterci dunque un cd con dentro il sistema operativo, e con questo potremo installare il sistema operativo dentro questo computer virtuale. Questo computer virtuale che adesso possiamo spegnere, vedete se io faccio così, io posso fare power off, e lui a tutti gli effetti si spegne. Allora come faccio a vedere le caratteristiche di questo sistema virtuale? Vado su settings, notate che se vado qua, io qua ho per esempio le preferenze di virtual box, ok? Quindi per esempio language, display, ok? Cose di questo genere, la rete, poi vedremo più avanti delle cose interessanti, però queste sono diciamo le caratteristiche di virtual box nella sua globalità. Invece se io vado a fare, vedete qui è un mascino, tutta un'altra serie di cose interessanti, che queste però non le vedremo, è molto interessante l'uso di virtual box. Comunque, e poi invece abbiamo questo, settings, noi l'abbiamo già visto, start, vabbè serve solo per farlo partire, vedete che abbiamo vari tipi, benissimo, se noi andiamo a guardare dentro settings, vedete che questi sono i settaggi della nostra macchina virtuale, vedete che noi abbiamo, abbiamo dichiarato che ci sarà questo sistema operativo, ma in realtà non l'abbiamo ancora inserito, system, vedete che abbiamo 4 giga, abbiamo un po' di caratteristiche, display, ok? Quindi storage, storage vedete che abbiamo un lettore di cd e un disco, naturalmente sono tutti e due virtuali, in particolar modo questo, questo disco è virtuale, questo portatile, il portatile fisico che uso io, non ha proprio il lettore di cd, quindi è virtuale completamente, adesso vedremo come gestirlo, invece questo, e vedete che è un file, ok? E lì c'è il percorso in cui è montato il file, vedremo più avanti meglio queste cose, dopodiché audio, se volete ascoltare la musica, naturalmente mappa l'audio del computer host, perché è virtuale, rete, stessa cosa, vedete che qui c'è scritto NAT, NAT sta per Network Hardest Translation, significa che, diciamo il sistema più comune che viene usato quando voi vi collegate a internet da casa, per cui gli indirizzi vengono tradotti, address translation, per cui voi potete andare su internet, ma da internet non potete andare sul vostro computer, porte seriali, un tempo si usavano, adesso non si usano più, USB, vedete che qui è considerato USB 2, ma posso anche decidere di simulare l'USB 3, perché avevamo installato l'extensions che prevedevano anche l'USB 3, poi qui abbiamo due paio di cosucce interessanti, vabbè questa, attenzione, vedete che se io qua faccio così, poi dopo questo menu mi scompare dall'altra parte, cioè quando lancio la macchina virtuale, quindi devono essere sempre in questo azzurrino, ok? Invece Shared Folders è molto interessante, perché permette di scambiare dati tra le macchine virtuali guest, cioè quelle che devo realizzare, e l'host, cioè il mio portatile fisico, lo vedremo più avanti, quindi adesso facciamo così, Cancel, quindi noi abbiamo terminato, questa macchina virtuale in realtà non serve a niente, l'abbiamo solo creata per prova, per cui così come l'abbiamo creata, adesso la cancelliamo, tasto destro, Remove, vedete che mi dice di cancellare soltanto i file principali, oppure tutti, in questo caso tutti, perché non ci interessa assolutamente mantenere in vita questa macchina virtuale, ok? Per cui è scomparsa ed è come se non ci fosse mai stata, ok? Quindi è un computer virtuale sia nella creazione che nella distruzione. Bene, a questo punto però noi dobbiamo installarci un sistema operativo. Ora, che cosa vogliamo installare? Per gli scopi del corso io voglio farvi vedere sia Windows che Linux, ok? Quindi allora noi cosa facciamo? Andiamo a scaricarci il quanto serve, ok? Quindi torniamo qua, cominciamo con Ubuntu, ok? Cioè un Linux, Ubuntu è un tipo di distribuzione di Linux. Allora ci sono varie possibilità, io in particolar modo vi suggerisco di scaricare la 1804 LTS, 1804 significa aprile 2018, quindi questo sembrerebbe, aprile 2019 sembrerebbe più recente, è più recente, però qui c'è scritto LTS, LTS sta per Long Term Support, cioè sono supportate per 5 anni, comprensive di aggiornamenti e quant'altro. La 1904 invece non è LTS, quindi è supportata per un numero ridotto di mesi, per cui io vi consiglio di scaricare la LTS. Poi c'è la versione desktop e la versione server, e vi consiglio a desktop, perché ovviamente qui non serve la versione server, ok? Notate che Ubuntu, cioè Linux, può funzionare, questo è un portatile con un computer, con un processore Intel, ma per esempio vedete che potrebbe funzionare con processore ARM, eccetera. Vi ricordo che l'ARM è il tipo di processore che viene usato normalmente sui telefoni cellulari e nella quarta puntata vedremo qualcosa anche sull'ARM, perché è molto interessante. Comunque adesso noi scarichiamoci l'Ubuntu, quindi clicchiamo qua sopra e parte il download, ok, sono 1,9 giga, facciamo finta di averlo fatto, perché sennò non ce la facciamo, ok? Quindi io qui faccio back, così torno dovero. Il file io ovviamente l'ho già scaricato, è questo, ok? Eccolo qua, vedete circa 1,9 giga. Bene, dopodiché procediamo con Windows. Allora, Windows naturalmente non è open source, ha la licenza, però la Microsoft offre a disposizione, vedete se voi andate su questo indirizzo, è una cosa perfettamente di provenienza Microsoft, offre a disposizione delle macchine virtuali già pronte per dei test, per fare test, ok? Ed è esattamente quello che ci serve. Notate che la differenza tra Ubuntu, qua, e Windows, è notevole, non per tanto per il sistema operativo, sono entrambi i sistemi operativi, quanto per il fatto che qui noi scarichiamo l'equivalente del CD, ok? Infatti, se noi andiamo qui a vedere, scopriamo che questo file, vedete qui come proprietà, questo file è un file, file immaginedisco, punto ISO. Quindi questo è un file che se voi volete, lo prendete e lo utilizzate per, come si dice, bruciare un hard disk, ok? E realizzare, scusate, non un hard disk, un CD-ROM oppure un DVD, ok? Invece in questo caso, la Microsoft mette a disposizione delle macchine virtuali già pronte, ok? Quindi già pronte a tutti gli effetti, già complete, con il sistema operativo installato. Allora voi direte, sì, però questo non mi torna con quello che abbiamo visto poco fa. In realtà sì, perché vedete che noi adesso abbiamo fatto new e poi avremmo dovuto installare il sistema operativo, che è quello che faremo con Linux. Ma c'è anche un'altra alternativa. Se voi andate qua e fate file, vedete che qui c'è scritto import appliance. Questo import appliance significa che voi potete importare, naturalmente come vedete c'è anche export, potete importare una macchina virtuale già pronta, già cucinata, ok? Quindi non solo la macchina virtuale nuda e cruda, ma anche il sistema operativo all'interno, già installato con tutti i dettagli. Questa è una cosa estremamente utile, perché ad esempio permette di realizzare per scopi didattici oppure per scopi di sviluppo dei sistemi già pronti, che è quello che faremo con Windows, ok? Quindi allora stavamo dicendo, allora di qua, da questo sito, c'è una licenza naturalmente, la macchina cessa di funzionare dopo 90 giorni, però a noi serve solo per scopi di test, quindi non c'è problema, mi aspetto che voi sul computer abbiate ovviamente Windows, per cui in realtà non vi serve neppure, però a me serve per far vedere tutto il procedimento. Quindi allora vedete, io devo scegliere una macchina virtuale, vedete io potrei scegliere Windows 7, Windows 8, quello che voglio, scelgo Windows 10, e poi piattaforma, cosa che questa piattaforma è quella di macchina virtuale, allora vedete che io ne ho un certo numero, per esempio Parallels e software di virtual machines per Mac, notate che VirtualBox peraltro funziona anche per Mac, funziona benissimo, c'è VMware che è probabilmente il leader di mercato e altri, tra cui VirtualBox, quindi io seleziono VirtualBox e dopodiché vedete che io qui non devo fare nient'altro che fare Download Zip, clicco qui sopra, e adesso lui con tanta pazienza scaricherà questo file che è da circa 7 giga, ovviamente io l'ho già scaricato, quindi il file in questione è questo ed è un file .zip, eccolo qua, è una cartella compressa .zip, dopodiché uno fa doppio clic col tasto, insomma doppio clic su questo e viene fuori questa cartella e in questa cartella, quindi estraendo il necessario, viene fuori questo file, questo file se ci fate caso è un file tipo OpenUsationFormatArchive, cioè .ova, che è esattamente quello che ci serve, ok? Questa è una macchina virtuale già cucinata, quindi c'è la macchina virtuale più il tutto installato già dentro, ok? Bene, allora cominciamo quindi a procedere, per cui tanto per cominciare questo lo mettiamo qua, dopodiché passiamo dall'altra parte, andiamo qua, ok? Quindi tanto per cominciare installiamo un nuovo Linux, che è quello che ci impiega più tempo, quindi facciamo New, adesso qui ci scriviamo Linux, ok? Poi, qui in realtà scegliamo il tipo, sì, Linux, versione, vediamo se riusciamo a trovare Ubuntu, eccolo qua, Ubuntu 64 bit, ok? E va bene, questo è il percorso dove vengono salvate le macchine virtuali, vedete che è questa, sì, dovrebbe essere una directory qua, no, non è sul desktop, è sul mio account, quindi facciamo Next, Quanta memoria? 4096, in modo tale che il sistema possa essere relativamente veloce, vedete qui, noi abbiamo 16 giga di RAM, quindi se voi avete un computer con solo 4 giga di RAM non andate lontano, è per questo che vi dico che il vostro portatile è bene che abbia 8 giga di RAM oppure anche 16, oggi come oggi con 16 giga ma potete funzionare, insomma date bene e non costa neanche tanto, ok? Bene, allora facciamo Next, bene, in questo caso noi creiamo un disco virtuale, cioè compriamo un computer nuovo esattamente come prima, solo che poi quello di prima l'abbiamo tolto, l'abbiamo cancellato per fare delle prove, ora, tipo VDI va benissimo, ok? Allocato dinamicamente per le ragioni che dicevamo prima, il disco facciamo, lo realizziamo di 50 giga, ok? Bene, l'abbiamo preparato, ok? Però, come prima, però adesso lo dobbiamo far partire, abbiamo visto che prima facendolo partire si bloccava, bene, allora evitiamo questo problema, allora andiamo su Settings, vedete che noi qui abbiamo tutta una serie di possibilità, però, tanto per cominciare, facciamo così, così andiamo, che sono cose che tanto vanno fatte, allora qui per evitare problemi, qui lo mandiamo a 128, e qui lo mettiamo qua, così, ok, dovrebbe essere a posto, magari togliamo questo, vabbè, togliamo questo, eventualmente lo mettiamo a posto, poi dopo, ok, poi, storage, allora vedete che qui nello storage noi abbiamo il disco, questo è il disco virtuale, ok? che al momento è vuoto, e siccome era dinamical allocated, pian piano si riempirà quando ci servirà, e questo è il CD-ROM che è virtuale e tra l'altro come dicevo prima non c'è un equivalente fisico perché io non ce l'ho il lettore di CD su questo computer, ora io cosa posso fare? se clicco qui sopra, lui mi dice choose virtual optical disk, ok? io faccio così, dopodiché dove che era quel file ISO? era qui sul desktop, quindi desktop, eccolo qua, ok? faccio così, vedete che era la versione 804, faccio così, e vedete che lui a questo punto mi ha agganciato come disco l'immagine del disco che avevo scaricato, quindi è come se io avessi aperto lo sportellino del lettore di disco e ci avessi messo dentro un CD già pronto con Ubuntu, ok? tutto in automatico, ora io, quando, dopodiché ci sono altre cose che posso fare, per esempio qui c'è la rete, però la lasciamo così, USB 3, lasciamogli pure un USB 3, questi sono i shared folders che vedremo dopo, user interface, vedete che sono tutti azzurri, quindi non abbiamo problemi, quindi qui va bene, e a questo punto possiamo farlo partire, a questo punto lui per partire partirà dal CD, ok? quindi partirà dal CD, vedete, io togliamo queste cose che riguardano sostanzialmente la modella del funzionamento e vedete che lui in questo momento sta partendo, ci vorrà un attimo, ovviamente, anzi, facciamo una bella cosa, prendiamo questa cosa qui e lo mettiamo qua, ok? quindi andiamo qua, qui lo lasciamo andare, vedete che lui sta partendo, ok? sta partendo dal CD, che in effetti non esiste, però è come se ci fosse, ok? ora, mentre lui procede, noi lo lasciamo andare, torniamo qua e invece cerchiamo di installare la macchina virtuale Windows, però, qui non dobbiamo fare New, perché la macchina virtuale Windows ce l'abbiamo già pronta, ok? ce l'hanno già data, tenete presente che questa cosa vi potrebbe capitare durante il periodo universitario, perché magari qualche docente vi dà una macchina virtuale già pronta per fare degli esperimenti, per fare delle prove, per fare una tesina, per fare qualcosa, quindi noi facciamo file import appliance, ok? quale dobbiamo importare? andiamo qua e andiamo a prenderci sempre sul desktop, vedete che noi l'abbiamo messo, se non sbaglio era qui dentro, sì, era qui dentro, ecco, questo è il file.ova, quindi io faccio apri, ecco, vedete che questa è la macchina virtuale, notate che la Microsoft ha già configurato per noi la macchina virtuale, un processore, 4 giga di RAM, la scheda di rete naturalmente virtuale che si appoggia sulla scheda di rete reale e tutta un'altra serie di cose, ok? NAT, va bene, l'hard disk come VDI, io faccio import e adesso lui si sta importando la macchina virtuale, vedete che il procedimento, la modalità di funzionamento è molto diverso dal precedente. Adesso torniamo dall'altra parte, eccoci qua, vedete? Lui ha terminato, mi scrive English, install Ubuntu, ok? Quindi dobbiamo cliccare qua sopra, perché l'altro tra Ubuntu, vedete che c'è l'icona del CD, è semplicemente per provarlo, ma qui noi non lo vogliamo provare, lo vogliamo proprio installare. Allora, choose your keyboard layout, mettiamogli italiano, allora, FG, questo perché naturalmente la mia tastiera è italiana, ok, continue, dopodiché vedete normal installation, qui noi vogliamo fare una cosa molto tranquilla, va bene, quindi download while installing in realtà poi non li utilizzeremo, continue, ecco, vedete lui mi dice warning, this will delete all your programs, documents, photos, music, and any other files in all operating system. Per forza, perché noi stiamo spianando, stiamo cancellando l'hard disk, attenzione, non stiamo cancellando l'hard disk del portatile, stiamo cancellando l'hard disk del solo sistema guest, non dell'host, quindi cancelliamo questo hard disk diciamo a costruzione incrementale di questa macchina virtuale, quindi di fatto non stiamo facendo nessun danno, ok, quindi facciamo install now e a questo punto partirà l'installazione, vedete che lui ci chiede ma sei proprio sicuro? Perché poi cancelleremo tutto, sì, siamo sicuri, benissimo, ci chiede dove siete, ok, vedete che ha individuato la zona, continue, bene, adesso lui ci chiede e creiamo un account, chiamiamo test, scegliamo come password test, mi raccomando naturalmente non dovete assolutamente usare delle password così semplici perché se no vi entrano nel sistema, ok, però questo è soltanto un test, quindi non ci sono problemi, quindi qui possiamo fare continue e adesso questa, qui stiamo a tutti gli effetti installando, ci vorrà il tempo che ci vorrà naturalmente, ok, ripeto, se voi avete, preferisco non fare pause per così dire, quindi se se ci sono i problemi fermate il filmato, fate quello che dovete fare, bene, nel frattempo qui noi stiamo installando, ecco, la Windows è stato installato, vedete, e c'è scritto Powered Off, significa che è spento, quindi noi di fatto abbiamo preso, ha fatto tutto lui, nel senso che noi in effetti non abbiamo fatto nulla, ok, quindi significa che lui ha effettuato import, ok, ha fatto, vedete, import appliance e quindi noi abbiamo importato questa macchina virtuale che la Microsoft ci aveva fornito, e con questa abbiamo realizzato una vera e propria macchina virtuale, allora sistemiamo un paio di cose su questa macchina virtuale nei settings, allora come vi dicevo, allora General, ok, qui abbiamo tutta una serie di cose che, ecco attenzione, Shared Clipboard, B-directional, perché? Perché se voi fate copia e incolla tipo CTRL-C, CTRL-V, potrebbe interessarvi copiare e incollare dei dati dal sistema, cioè dall'host, quindi dal vostro portatile, alla macchina virtuale e viceversa, ok, drag and drop significa che voi potete addirittura trascinare delle icone, io lo lascio riperdere, però si può fare, ok, quindi Basic, Advanced, Description, vabbè queste sono cose che non ci interessano, quindi questo va bene, poi System, vedete che qui è riepilogata il nostro computer virtuale, sono 4 GB di RAM, vedete che noi abbiamo anche un disco ottico, ok, che naturalmente non esiste, poi Display, allora qua io direi di abbondare un po' di più, poi ci riproviamo, facciamo così e così, ok, ce l'ha accettato, poi Remote Display, lasciamolo stare, Recording anche, poi Storage, vedete che qui abbiamo il disco, ma non abbiamo il CD, ok, dall'altra parte l'ha riportato, ma fisicamente non c'è, lo aggiungiamo, tanto è tutto virtuale, vedete, sei in procinto di aggiungere un nuovo disco ottico, va bene, cosa ci metti, cosa metti all'interno di questo lettore, un disco o qualcosa, no, lasciamolo pure libero, ok, quindi noi abbiamo messo un lettore di disco che per inciso è tutto virtuale, perché come dicevo non c'è sul mio computer, ed è vuoto, poi Audio, nulla, Rete, vedete, NAT, va bene, Porte Seriali, Port USB, Enable, perché non era disabilitato, USB 3, Shared Folders, User Interface è tutto a posto, Shared Folders, vediamo di capire come gestire Shared Folders, allora, se ci fate caso, io qui ho una directory chiamata Scambio Host, ed è una directory sul desktop del mio computer, ok, benissimo, allora io cosa posso fare qua, posso dire al sistema Windows che qua, vedete, io faccio Adar, dopodiché, questo è il mio sistema vero, fisico, faccio Desktop, poi io prendo Scambio Host, faccio Seleziona Cartella, va bene così, faccio OK, e vedete che lui mi prende per buono questa directory, e a questo punto questa directory, che è sul desktop del mio sistema host, quindi fisico, quello reale, e me la fa diventare come una directory che in realtà viene mappata su un disco di rete del sistema virtuale, cioè del guest, comunque adesso lo vedremo meglio, quindi adesso qui faccio OK, qui più o meno, qui ci dovrebbe essere un riepilogo di tutte le principali cose, vedete che mi vede, per esempio, Shared Folders 1, quindi questo è a posto, bene, adesso andiamo un attimo a vedere dall'altra parte che punto è, vedete che qui sta più o meno a un, due terzi, speriamo che faccia in fretta, e benissimo, a questo punto, noi qua possiamo permetterci di far partire la macchina virtuale Windows, notate che il sistema, il mio computer in questo momento è un discreto computer, però è piuttosto carico, perché in questo momento abbiamo un sistema Linux che gira con 4 giga di RAM, un sistema che adesso facciamo partire con altri 4 giga, e poi sto anche effettuando la registrazione con OBS, quindi il sistema è piuttosto carico, benissimo, facciamo partire anche questa macchina virtuale, ci impiegherà un attimo, e adesso farà il boot, ecco vedete, parte come quella di prima, questo auto capture è perché quando voi ovviamente volete scrivere, lui deve capire che state scrivendo all'interno della macchina virtuale, è la stessa cosa per il mouse, ok, quindi la seconda, andiamo a vedere nel frattempo mentre lui va avanti, andiamo a vedere dall'altra parte, si vedete che sembrerebbe essere a buon punto, ah, notate che il computer in questo momento è collegato alla rete, è il computer fisico, perché se gli servono alcune cose, tra l'altro questo computer, questa macchina virtuale Microsoft ovviamente ha una licenza, quindi deve collegarsi a internet per poterla validare, ok, bene, allora qui lui sta continuando, andiamo a vedere dall'altra parte, si, è chiaro che il sistema è decisamente sotto carico, bene, aspettiamo che parta, è partito, ok, andiamo a controllare le caratteristiche, vedete che noi qui abbiamo il, il, vedete che qui abbiamo tutti i vari menu, quindi qui abbiamo tutti i vari device, vedete USB, ok, per esempio vedete su USB, io potrei usare, se io incastro, metto una chiavetta USB, la vedo di qua, ok, vedremo poi, shared folders, ok, tanto per curiosità vediamo se è giusto, vedete che c'è ancora, quindi come doveva essere naturalmente, bene, allora proviamo a entrare, facciamo clic qua sopra, vedete che lui mi chiede la password, la password è quella che c'è nella documentazione di Microsoft ovviamente, ed è password scritto con la P maiuscola, quindi P maiuscola, A, S, S, W, 0, rd, punto esclamativo, ok, naturalmente è di test, poi io faccio, entro nel sistema, faccio submit, vado nel frattempo a vedere che punto è Linux, ok, installation is complete, you need to restart the computer in order to use the new installation, restart, ok, vedete che lui sta facendo il reboot, nel frattempo dall'altra parte stiamo entrando, allora vedete please remove the installation medium, then press enter, dobbiamo controllare che il cd che avevamo montato non sia più montato perché altrimenti lui ricomincia con l'installazione, allora vedete che in realtà lui l'ha già smontato, quindi dovrebbero essere a posto, per cui è sufficiente che io clicchi all'interno della finestra e poi schiaccio il tasto enter e lui parte, ok, quindi vedete che mentre per Windows noi abbiamo preso una macchina virtuale già pronta, qui l'abbiamo dovuto, abbiamo creato una macchina virtuale grezza, cioè come se avessimo comprato un computer, diciamo che nel caso di Windows non in generale ma in questo caso specifico noi abbiamo comprato un computer già fatto, quindi già con Windows installato, nel caso di Ubuntu abbiamo comprato un computer grezzo e poi li abbiamo installato sopra Linux, ovviamente con un'installazione base, ok, quindi andiamo a vedere qui com'è la situazione dall'altra parte, ecco lui è partito, ok, adesso vediamo se ha funzionato tutto, perché se ha funzionato tutto, perché io ho impostato i vari parametri, se li ho impostati correttamente io posso fare full screen mode e a questo punto lui me lo manda a tutto schermo e sarà indistinguibile da Windows 10 effettivo, e vedete che io se voglio tornare indietro devo schiacciare host e contemporaneamente F, il tasto host qui è il control destro della tastiera, ok, quindi facciamo così, vedete che lui me lo ricorda, se voglio posso evitare che lui me lo ricordi, però preferisco che me lo ricordi sempre, quindi per tornare indietro, quindi a questa situazione io devo schiacciare il tasto host, cioè control destro, più F assieme, quindi facciamo switch e vedete che ha funzionato, ok, se io poi vado giù con il mouse mi compare questo menu a salita che è lo stesso di prima, quindi io qua come potete vedere ho un sistema Windows a tutti gli effetti perfettamente funzionante, ok, in cui potrò installare tutto quello che devo installare, andiamo, vedete che il giochino delle quattro dita, quindi del desktop multiply, funziona anche, anche se noi siamo a tutto schermo, io faccio così e vedete che sono dall'altra parte e c'è Ubuntu che sta partendo, ok, ci impiegherà probabilmente ancora un po', allora magari mentre lui continua a girare, aspettate che io, ah sì, ok, mentre lui continua a girare, io faccio qui un'altra cosa, ok, innanzitutto torno alla modalità non a schermo pieno, quindi schiaccio il tasto control di destra, poi schiaccio F in contemporanea e lui me lo rimanda su una finestra, ora, io vi avevo parlato prima del copia e colla tra finestre, benissimo, proviamoci, allora se io faccio devices, vedete che qua mi dice insert guest addition cd image, ok, notare che questo richiede che qua ci sia un optical drive, ok, cioè ci sia un lettore di dischi, naturalmente virtuale, io schiaccio lì, ok, ebbene, vedete che lui mi trova un hard disk, mi trova un cd, no, che non esiste naturalmente, e mi dice select what happens con questo hard disk, con questo disco, ok, facciamo così, allora andiamo a vedere se me l'ha messo qua, dove è andato a finire gli spisi, eccolo qua, ok, faccio così, è un hard disk fittizio, è un hard disk che che VirtualBox mi mette a disposizione, allora, sì, diamo l'ok, adesso parte questo, mi sta installando, allora, cosa sono queste guest addition? è un programma che fa parte, per così dire, di VirtualBox, che deve andare d'accordo con il sistema operativo che noi abbiamo installato, in questo caso Windows, in modo tale da far sì che il Windows che c'è all'interno di VirtualBox possa colloquiare con il sistema operativo host, in questo caso Windows, ma potrebbe anche non esserlo, in modo tale da fare tutta una serie di cose, tra cui copia e incolla, trascinare le icone, avere dei dischi in comune e quant'altro, in modo tale da facilitare l'intoscambio di informazioni, quindi io qui faccio next, qui va bene, sempre next, sì, qua direi che non c'è nulla di speciale, adesso lui mi installa questo, vado di là a vedere come sta Ubuntu, qui non so bene cosa sia successo, perché in teoria dovrebbe essere a posto, allora, would you like to install this device, software, install, ok, adesso lui ci pensa un po' su, vado dall'altra parte, qui non dà segni di vita, ok, completing, reboot now, vedete io adesso faccio reboot, ovviamente della macchina virtuale, quindi lui riparte e se tutto ha fatto, se tutto ha funzionato come doveva, quando sarà ripartita io potrò utilizzare per esempio il copia e incolla e fare tutta una serie di cose, ok, andiamo qua, sentite qui c'è qualcosina che non quadra, quindi io farei una cosa di questo genere e lo costringerei a fare reboot, vediamo se funziona, poi andiamo di qua e lo facciamo partire, eccoci qua, allora, qui Linux è partito correttamente, cioè scusate, Windows è partito correttamente, vediamo se riusciamo a far partire anche questo, qui adesso mi ricollego da questa parte, ecco qua, ok, quindi Windows non ha creato problemi, invece qui siamo un po' fermi, vediamo che si sblocchi, vediamo che si sblocchi, nel frattempo qui facciamo quello che dicevamo prima, ok, cioè proviamo semplicemente a vedere come fare a fare il copia e incolla, allora, qui andiamo qui, anzi andiamo qui, e ci scriviamo notepad, ok, poi qui dentro ci scriviamo prova di copia, ok, poi lo selezioniamo, ecco qui, poi faccio ctrl c, poi, facciamo così, sì, copy, perfetto, adesso invece andiamo sul sistema reale, per esempio andiamo qua, ok, poi andiamo a cercarci il notepad anche qua, lo facciamo partire, e poi qui facciamo incolla, vedete, siamo riusciti ad effettuare questo tipo di copia, ok, questa non è una cosa per niente scontata, perché i due sistemi operativi ovviamente sono indipendenti l'uno dall'altro, adesso io qui però vorrei capire perché, Linux non mi va avanti, allora, quindi questo lo possiamo chiudere, tanto non ci serve, l'ultima cosa che vorrei fare, è verificare se funziona anche il discorso dei dischi condivisi, allora vi avevo detto che qui, questo corrisponde a questa directory, vedete, che al momento è vuota, naturalmente il nome me lo sono inventato io, perché non c'è un motivo speciale, bene, allora proviamo qua, allora, proviamo ad agganciare questo disco, scambio host, ok, come facciamo? beh, prendiamo questo, questo è il file explorer, come facciamo a vedere, andiamo a vedere su network, perché quella parte, quella directory, è come se fosse un pezzo della rete, quindi facciamo network, eccolo qua, vedete, VBX, questo è la macchina stessa, invece questo è il Vbox server, virtual box server, ecco vedete, scambio host, vedete che è montato con la sintassi tipica di Windows, faccio così, e vedete c'è scritto, this folder is empty, ed è la stessa che c'è qua, è empty anche questo, ok, adesso lo apriamo anche qua, li mettiamo a fianco, e adesso di qua, vedete io faccio tasto destro, new, folder, e ci scrivo prova, ecco qua, vedete che è comparsa anche la scritta qua, prova, ok, se adesso noi per esempio di qui entriamo e realizziamo una sottocartella, e la chiamiamo, prova 2, ok, poi andiamo qua, e vedete che qui dentro c'è prova 2, in questo modo io posso scambiare i dati tra una macchina e l'altra, ok, allora, direi che qui abbiamo fatto più o meno tutto quello che serviva, ah, un'ultimissima cosa, allora, qui, chiudiamo questo che non ci serve, allora, qui, l'ultima cosa che volevo farvi vedere, e allora ci siano problemi con la tastiera, settings, ok, se volete inserire una nuova tastiera, perché qui dovrebbe avermi preso la tastiera, la tastiera americana, quindi noi facciamo, quindi noi facciamo, allora, aspettate un attimo, ecco qua, così, time and language, poi andiamo su language, ok, poi vedete che qui noi possiamo fare, vedete che qui noi abbiamo solo English, la tastiera del mio vero computer fisico e italiana, quindi i tasti saranno sbagliati, io faccio add a language, poi, qua ci mettiamo, italiano, ok, aspettiamo che lo trovi, eccolo qua, italiano, poi next, searching for language features, allora, siccome ci serve solo la tastiera, non ci serve il riconoscimento, di niente di che, ci serve solo basic typing, quindi facciamo install, ok, quindi a questo punto, vedete che è comparsa questa scritta qua, per cui io faccio semplicemente così, e se voglio riproviamoci come abbiamo fatto prima, allora, notepad, perfetto, allora vedete che io qui adesso sto premendo il tasto, che sulla tastiera italiana ha una accentata, vedete che in realtà mi mette un altro tasto, adesso io faccio così, faccio Italian Keyboard, e poi continuo a scrivere, e vedete che a questo punto mi viene la accentata, ok, bene, direi che abbiamo visto tutto quello che serve, allora, qui abbiamo l'altro sistema, che è ancora fortemente rallentato, per cui io sospenderei qui la registrazione, io nel frattempo sistemo questa cosa, e ci vediamo per la parte 3B, da cui partiremo per installare del materiale, su queste macchine virtuali, grazie, a tra poco.